È il primo corso che faccio con Anna Maria e José e sinceramente sono estasiata. Sono stati tre giorni pieni di trasformazioni, veramente tante trasformazioni. È già il secondo corso che faccio con Anna Maria e José e posso dire che sono cambiata tantissimo. Tutte queste emozioni, tutte queste rivelazioni. Ho sentito una profonda connessione con me stessa, cosa che probabilmente non avevo mai provato fino adesso. Tanto amore e soprattutto José e Anna Maria sono veramente straordinari. Sicuramente è un percorso veramente trasformativo che consiglierei a tutti perché il lavoro su di sé è fondamentale. Io mi sono divertita tantissimo. Ho sentito proprio dentro di me il contatto con la mia anima. Un ambiente, un'energia talmente coinvolgente, talmente di amore e di gioia che riesci veramente a fare un'evoluzione interiore straordinaria solo stando qui e partecipando. È stato un percorso veramente intenso, emozionante, di grande trasformazione e di grandi emozioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.